Un altro contropiede della Virtus Castelfrentano, un bel pallone, vediamo se... Ah, fuori ha svirgolato il numero 17, un gol mangiato per troppa sicurezza. Lo doveva mettere di piatto, no di punta. Un'altra occasione da rete della Virtus Castelfrentano che ha meritato questa vittoria. Gerardo ha la palla, il nostro portiere è Gerardo, rimette. Ecco, un bel campanile. Stanno tirando palloni, palloni in avanti perché mancano pochi minuti. E' il Francavilla, l'atletico Francavilla, spera di pareggiare. Invece noi dobbiamo vincere, tre ponti meritati, meritati per queste ultime due occasioni. Un fuorigioco inesistente, mentre a seguito di una bella splendida rete, un palo interno entrato dall'altro lato proprio, ha carambolato tutto sulla linea di porta per ficcarsi all'angolino dell'altro palo. Un bel gol, però l'arbitro ha fischiato un inesistente fuorigioco. E poi adesso stazione mancata di un soffio per il meritato raddoppio. Ecco il nostro anzio letto. Oh, un buon arbitro. Yeah.